Alla fine del 2022 arriva un report annuale dell'attività di Tinder che quest'anno compie anche 10 anni. Che cosa è emerso? Sono emersi tanti dati interessanti. Innanzitutto che la metà degli iscritti hanno tra i 18 e i 25 anni e quindi ha permesso all'applicazione di valutare quelle che sono le tendenze e i comportamenti più in uso sull'app. Il primo che mi viene in mente è proprio quello relativo agli appuntamenti alcol free. Infatti il 25% degli iscritti ha dichiarato di bere di meno al primo appuntamento. Un altro dato interessante è quello dell'interesse per i giovani per l'attivismo e per le battaglie sociali. Quindi c'è un match facilitato per chi è schierato da un punto di vista sociale e lotta per i diritti. Un altro è quello legato alle emoji che vengono utilizzate sempre di più proprio per descrivere il proprio status e l'emoji dell'anno è stata quella dell'AP, ovvero del pushing up. Il fatto di ricercare persone leali e oneste con le quali costruire poi una relazione. Il problema della lealtà ed onestà è un problema evidente perché non sono rari i fatti riportati sulle pagine di cronaca in cui le persone utilizzano Tinder e social network per approfittarsi dell'altro. Quali sono i principali rischi insiti nella rete e in generale dei social network in particolare? Un fenomeno attuale molto spiacevole è quello del catfishing. Infatti in Italia nel 2021 si sono registrati già 300 casi dichiarati alle forze dell'ordine, ma sappiamo che il sommerso è molto di più. Quando parliamo di catfishing parliamo di una persona che propone una falsa identità per circuire l'altro interlocutore e in alcuni casi molto spesso anche estorcergli del denaro. In realtà l'estorsione passa da una finzione, cioè la persona cerca di guadagnare la fiducia dell'altro utente per poi fingere di avere dei problemi fiscali, dei nemici addirittura a cui deve fornire dei soldi o farsi finanziare un progetto per poi scoprire che è tutto finto e la persona una volta ottenuti i soldi scomparirà. Come sono cambiate le relazioni ai tempi delle app dal primo appuntamento anche alla chiusura di una storia d'amore? Le relazioni sono cambiate tantissimo proprio perché nascono, crescono e si concludono spesso attraverso le app di dating e social network o i servizi di messaggistica istantanea. Il dato più interessante, proprio creato dal report di Tinder, Year in Swipe, del 2022, è la nascita di un nuovo fenomeno che è quello della situationship, ovvero una relazione a metà tra la relazione stabile e un'amicizia, creando quindi non solo dei nuovi termini anglosassoni da studiare, ma veri e propri nuovi modi di stare insieme che chi è appassionato del tema e gli studiosi di psicologia e sociologia devono approfondire proprio perché descrivono un nuovo modo di stare insieme.